Ciao a tutti! Quarta puntata della fanfiction scritta su di me da Sidasio. Baby, lo sai che sei fottutamente perfetta. Capitolo 4. Io scappo e vado via. Chiara citazione di Tina Cipollari Hawaii. Grande pezzo, grande pezzo. Iniziamo. Non vedo la ragione di sapere come va avanti. Aiuto, 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 aiuto. Com'è che era finito il capitolo 3? Non mi ricordo già più. Era tipo... Ah, e Criara è stata infettata dalle tre sciaggini degli ubriaconi al locale. Bene, iniziamo. Non finirò mai di raccontare la bellezza di quel giorno in cui lo incontrai. Quando qualcuno ti salva, senti il bisogno di salvare anche gli altri. La tua memoria di lui non è più la stessa. Lo vedi in un modo, lo ricordi in un altro. Lo percepisci nella molteplicità delle sue azioni, innescate al fine di demolire una minaccia. E dietro a quei gesti non vedi che l'amore è che prova per te. Finisci per scordarti le immagini del tuo ex sfracellato e tagliuzzato di fronte a te. Ma Ben, ma poverino, anche nelle fanfiction con me è terribile il suo destino. E tu immobile in un mare di sangue. Infatti il ricordo si tramuta in un concetto. Non c'era altro che la manifestazione del suo amore per me in quel ricordo. Non ha mai ucciso un uomo. Mi ha amata. E altre stronzate simili. Ma come altre stronzate simili? Altre cose del genere? Per giorni non feci nulla. Senza stimoli. Senza un ragazzo... Aiuto, mi do a soffiare il naso, ragazzi. Che fatica. Senza un ragazzo che mi strattonava da tutte le parti. Contro e non contro la mia volontà. Non agivo. E guardare fuori dalla finestra pensando a Matteo. Temendo questo Anthony di Francesco. Ma quindi Anthony di Francesco arriva veramente come personaggio cattivo. Speriamo. Se guardi troppo lungo Anthony di Francesco finisci per diventare tu stesso Anthony di Francesco. Aiuto. Dovete distogliere lo sguardo. Ma quando l'ho mai detta questa cosa? Dovete distogliere lo sguardo. Ero stata infiettata dal trash. Ormai girando per le librerie o per i supermercati. Venivo attratta dai libri di Cleo Tombs. Non stavo bene. Non stavo bene. Malata, sola, pericolante. Se avessi cercato di attirarlo a me ancora una volta non mi avrebbe risparmiata. Una volta, vabbè. Fa niente. Lo aggiungo io. Due, no, dai. Sentivo la voce, la sua voce rimombarmi nella testa. Contro ogni previsione però passavo intere giornate a libreria per ricordarmi contro cosa quel ragazzo combatteva. Uccidete, mi pensavo. Uccidi, mi intendevo. Entrai in una libreria pronta a rivocare le mie memorie. Fissavo il vuoto, la pochezza, il nulla, l'abisso. Cameron, stalle lontano, senti. Sono allergico al fatto che la gente si è emozionata dal trash così tanto. Sarà quello? Sarà Ilaria Sorania? Ancora lei? Aiuto. No. Lei è mia. Quindi è arrivato Cameron Dallas. Allora è lui che mi lancia le allergie. Lei è mia. Ho fatto troppi sacrifici per averli. Per averla. Levati di mezzo. Ma cosa dici? Sei uno scimmione. Ma dai, cosino. Devo riprendermela. Dobbiamo partire e andarlo a trovare. Devo avere una degna sepoltura. Ma di chi stanno parlando? Ma cosa vuoi andarlo a trovare? Che è morto. Cosone, è da dimenticare. Ah, bene, puretto. Lo so, l'hai ucciso tu. Io? Ah, ok, è vero. Grazie per avermelo detto con così tanta leggerezza. Mi rivelai. Avevo le farfalle nello stomaco. No, c'è il triangolo scemo dopo tra me e Cameron, secondo me. C'è Cosetta che non sa chi scegliere, vedrete. Mi rivelai. Avevo le farfalle nello stomaco. Inciampai. Le farfalle volarono via. Matteo! Vattene, cosina, scollati. Non c'è niente per te qui. E invece se io ti conosco Cameron, che ci fai qui? Non ti avevo detto di dimenticarti di me, che non ti volevo più nella mia vita. Esco con Ben ora. Che questo tipo ha ucciso. Senti, lo so che mi ami, mi rivuoi, sei troppo sola, dimentichiamoci di Ben. Facciamo sì che abbia le sue cerimonie religiose e cose del genere. Grande, non sapevo che arrivava. E venga messo sotto terra. Come si dice là, una sepoltura degna di lui. E andiamo avanti. Cresciamo. E invecchiamo insieme. Ma si può prendere il raffreddore d'estate, ragazzi? Non risposi. Ero troppo confusa. Ma bastarda, ma rispondigli. Cazzo, quante citazioni colte dalla mia recensione. Non me la ricordavo neanch'io questa. Disse Matteo. Non ho forza di volontà, cedo. Ma io amo solo te, Matteo. Dissi. Ma no, ma dai, basta. Torna da lui e guardate gli addominali in pace. Ma non posso tornare con te, Cameron. Ne hai fatto soffrire troppo. Mettiti con Susan. Drogatevi e scopate. Ti prometto, Cree. Te lo prometto che sarò migliore. Che ti amerò. Che provvederò a te. Eh? Che ne dici? Eh? Come non starci? Guardai, Matteo, in cerca di consenso. Dovevo avere l'aria franta. Vai, Cree. Io ho altro da fare. Sorriso e speranzoso. Voleva un futuro tranquillo per me. In fondo mi fidavo di Cameron. Sapevo che era cambiato e era pronto ad amarmi di nuovo. Matteo sembrava approvare la nostra relazione. Eh, vabbè, ma sono destinati a stare assieme. Doro due poretti. Non sarei mai più stata con lui. Non mi amava e conduceva una vita troppo movimentata. Wow. Ma feci un altro errore. Cosa dici, poverina? Oddio. Diventa tutto in SMS adesso. Cosa dici, poverina? N-n-n l'ho ha, senza l'H, scritto lei il libro, ma sua mamma, quindi, è cyberbullismo contro... Genio! Cioè, ha preso il commento di una tizia che non ha capito nulla della recensione. Contro Sophie Viasca, dissi. Mi sfuggi di nuovo. A Matteo si spense il sorriso. Cosa succede? Disse Cameron. Tutto bene, Cree? No, no, che non va bene. Trashione! Mi prese il viso tra le mani e mi guardò intensamente. oh no il trash va sempre più a fondo è trisico necessario sarà difficile sradicarlo puoi curarla di chiese Cameron ma se anche Cameron è trash ma certo è ciò che faccio nella vita no? sveglia ogni tanto allora fallo non posso vivere con una persona malata che cacchina che Cameron curala e riportamela ma il realismo della tua affermazione d'amore vergogna vergogna cosina puoi sentirmi? io intanto era terra tremante morivo di freddo ma come scusa mi senti sì? mi senti sì? vabbè fa niente sei malata molto grave lo sapevo già come senza di te ogni giornata è stata una malattia ricominciamo a posò la mano sulla fronte scosse leggermente la testa lo volete capire che queste frasi ad effetto non sono romantiche ma chi parla così? ma va ad aumentare il tuo vocabulario vabbè fa niente sei malata ok? devi essere curata prima di diventare una macchina spargi trash ambulante vagina magnetica moralista fasulla eccetera eccetera già questo tuo modo di esprimersi è un no accresci i tuoi registri narrativi fai qualcosa insomma ecco non puoi solo devirare non sei mess grandissimo dialogo questo solo io ne conosco la cura è il mio lavoro ma qual è la cura? anch'io voglio sapere io non la so ma cosino qui è il tuo vero amore credo che tu debba stare con lui ah ma io sono un cupido del trash quindi l'amore è la vera cura dopo tutto ma che dico? ecco mi hai fiettato no sul serio stami lontano gli dite un'occhiata trucida e provocatoria accompagnata da un'espressione beffarda a Cameron da una parte avrei avuto amore ma nessuna cura dall'altra una cura ma condannata a non essere amata ma te non mi avrebbe mai amata ne ero cosciente ma era la mia unica salvezza ero troppo sfasata non la vedi? non è nella condizione di scegliere c'è un solo modo per decidere con chi andrà disse Cameron oh no non stai per fare quello che penso per dire quello che penso non farlo il gioco della bottiglia adoro il gioco della bottiglia no 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 crescete superate la terza elementare ma questa è legna però non sono io Cameron guardò Matteo speranzoso immerso nel che bello che elegante che fine è leggere di trash soffiandosi il naso ma non resisto ragazzi mi è venuta l'allergia Cameron guardò Matteo speranzoso immerso nel tragico nel disagio l'ho letto è l'unico modo estrasse la bottiglia scoprendo i suoi addominali perfetti ma come? la interpose tra noi scoprendo i suoi i suoi addominali perfetti siamo vertici due su tre hanno gli addominali bene chi vuole avere l'onore? penso debba farlo cosina presi la bottiglia un due tre gira 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 Cameron Matteo io Cameron Matteo io Cameron Matteo io un orologio cieco scelse lui ma chi? cioè ma chi lo aggiungo io perché è finito il capitolo I need to know devo sapere ma so quasi per certo che uscirà Cameron o uscirò io che ridere se esco io sarà la follia lo stesso puro vabbè non vedo l'ora del prossimo capitolo sto sclerando devo sapere e purtroppo non è ancora aggiornato almeno quando caricherò questo video magari sì ma non so quando lo caricherò quando avrò caricato gli altri e quando sto facendo questo video non esistono neanche gli altri per voi sì è un casino ma li ho registrati tutti assieme sti video vabbè ciao a tutti alla prossima ciao a tutti